proseguiamo sempre per la strada ignorando tutte le altre indicazioni com'è fino adesso Barbara? tutto bene perché c'è sempre una pendenza facilissima bene bene dopo così quindi si va bene ed eccoci arrivati ai piani di bobbio a destra si va verso il rifugio buzzoni noi proseguiamo dritti ecco Barbara questi sono i piani di bobbio ecco là in cima la nostra destinazione dai babi che manca poco tagliamo per i prati eccoci infine arrivati al rifugio ecco bene bello eccoci infine 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 È anche un'escursione facile di un'ora e venti, la pendenza non è elevata quindi c'è sempre la stessa pendenza e la strada è cementata o asfaltata, è facilissima da fare. Poi quando si arriva su c'è un bellissimo panorama con diversi rifugi, bar e ristoranti, molto bello. Ciao! Rientriamo. E allora signorina, le piacciono i piani di Bobbio? Sì, mi piacciono. C'è un bel panorama. Poi se uno vuole mangiare qualcosa c'è l'imbarazzo della scelta perché sono tutti aperti. Tutto l'anno tra l'altro. Tutto l'anno. Sì, io ve lo consiglio. Andi! Tutto l'anno.